Questa è la storia della terza generazione, la storia di una signora di Atri, la storia di una signora del 1935, la storia di una certa età, 85 anni, la storia di una signora che percepiva giustamente l'assegno mensile, mensile tra virgolette, del contributo per l'autonoma sistemazione, la storia di una signora che non ha più questo contributo perché è stata trasferita da Atri a 10 km di distanza, casoli di Atri, ascoltate il servizio. Signora, quanti anni sono che lei vive ad Atri? Faccio il conto a lei, io ho 23 anni e sono ad Atri, ce ne ho 85, no, faccio a lei il conto perché... Non li dimostra che sono oltre 60 anni? Lo so, lo so, tutti me lo dicono però ci sono. Che significa dopo 60 anni essere costretti per l'ordinanza, perché altrimenti si perde il CAS, ad andare a vivere da sola, ovviamente, a 10 km di distanza. No, io voglio sapere se è una cosa giusta perché io sono, come ripeto, sono anziana da sola, non ci posso stare, perché ogni tanto ho i giramenti di testa, la pressione che un po' si... non è che fissa, fai sbalzi, da sola non ci posso stare, ma che giudicano qualcuno che giudica. Che cosa ha pensato quando ha saputo che la volevano trasferire a Casoli di Atri? No, subito, io ho detto se Atri sì, dentro Atri sì, ma fuori non ci posso stare perché io come faccio ad andare in giro, devo prendere l'auto, io non guido la macchina e allora non è possibile, non è possibile, per me non me la sento. Che cosa vuole dire al sindaco di Atri, Ferretti? Non sono in grado. E ora però non prende più l'assegno del CAS? Ho capito questo. Non prende più l'assegno adesso? Oddio, ma un paio di mesi mi sembra, non so di preciso, ma un paio di mesi sì. E sembra giusto? Ma per me no, perché una signora così anziana, uno ha 60, 65, ma pure 70 anni, ma a me non l'accetto. Il consiglio al comune di Atri, al sindaco Ferretti, ai suoi dirigenti, ai suoi funzionari, ai suoi assessori, alla sua giunta, l'ordinanza, l'ordinanza 614, l'articolo è il numero 5, il comma e il 6, in cui i comuni possono cambiare, verificare, controllare e modificare i soggetti fragili. E in questo caso, secondo noi, questa pratica ha bisogno veramente di una revisione. Grazie a tutti.